Stasera faremo un lungo viaggio e si va fino al Monte Gordo perché se tutto va bene stasera dovrebbe esserci un'apparizione di un fantasma di una bambina morta lì sopra vogliamo vedere se veramente c'è questo fantasma ok ragazzi il tutto a bordo di questa Mercedes E63 AMG come vedrete è bella grossa ragazzi dobbiamo correre va bene quindi non rispetteremo nessun segnale stradale perché sennò qua ragazzi ci perdiamo lo spettacolo perché mettiamo il caso che il fantasma si fa vedere non penso che starà per tanto tempo va bene quindi corriamo e non perdiamo tempo bolide ragazzi ma poi che sound questa macchina sembra tanto una Mustang una Dodge una Camaro non sembra proprio una Mercedes ma è veramente una Mercedes questa vai vai Ronaldo fatti qualche sorpassino tattico come sei tu vai rallentiamo ora non lo so se tutte queste persone vanno lì perché comunque la notizia veramente ragazzi si è sparsa dappertutto Instagram, Facebook, Whatsapp, vari gruppi dappertutto credetemi anche alcuni youtuber qua di Los Santos hanno fatto dei video e quindi sapete quelli là sono famosi hanno fatto un video, hanno fatto 500, un milione di views e tutti quanti lo sanno adesso quindi spero che non c'è tanta gente vai, vai Ronaldo noi dobbiamo andare sempre dritto come vedete siamo quasi arrivati e poi ovviamente ci aspetta anche la scalata che dobbiamo affrontare vai attenzione che qua si gira piano 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 sono le 21 ragazzi ma mo saranno già le le nove e mezza quasi dieci eh perché sapete il tempo di GTA passa velocemente ok ah ok questa strada va bene siamo attenti qui spegniamo un attimo gli abbaglianti ok oh ma dove ci porta questa strada ragazzi ok io mi fido del navigatore del della Mercedes però ragazzi noi dobbiamo salire in cima ok reggiti forte Timmy eh tutto apposto ma dove sta? ah ok sei messo dietro ragazzi sei messo dietro comunque vediamo un attimo qua che c'è da fare perché vedo che la strada è interrotta ah no ok si prosegue ma penso che questa si tratti di una strada dove si va a piedi credo non lo so ragazzi non lo so noi dobbiamo arrivare qua ok dobbiamo arrivare qua noi vabbè vediamo un attimo se possiamo tagliare vediamo se questa macchina ce la fa soprattutto ok ragazzi guardate dove stiamo scendendo qui eh forse abbiamo trovato la strada si forse è questa la strada dai piano 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 oddio che curva ma come lo faccio? ok piano qua se cadiamo è finita comunque guardate quanta gente che c'è pullman militari pure polizia ok piano qua qua come giro ok come giro qua ragazzi piano non graffiamo la macchina buono oh siamo arrivati siamo arrivati siamo arrivati siamo arrivati ci siamo anche noi quanta gente c'è oh scendi timmy andiamo a vedere che si dice no vabbè no vabbè no vabbè no ragazzi vabbè guardate quanta gente che c'è ad aspettare l'apparizione del fantasma tantissima tantissima gente vedete lì abbiamo militari dottori scienziati gente che fa foto di tutto ragazzi poi gente anche col fucile qui dobbiamo riuscire a vedere se possiamo entrare un pochino più avanti perché almeno mi va di stare qua lontano però innanzitutto aspettiamo l'apparizione del fantasma almeno diciamo può darsi che da qui lo vediamo bene buongiorno gente ok ragazzi aspettiamo questo orario e vediamo un po' se appare è uscito timmy nooo eccolo ragazzi eccolo lì eccolo lì lo vedo lo vedo vediamo un attimo dal telefono no è vero ragazzi c'è veramente il fantasma qui avevano ragione c'è veramente il fantasma aspetta timmy andiamo un po' più avanti andiamo qua dietro ragazzi vediamo un attimo se possiamo andare lo voglio vedere bene shhh piano piano non facciamoci vedere timmy che vuoi fare vuoi venire vieni pure tu dai così lo vedi bene oddio ragazzi eccolo lì stai attento timmy siamo vicinissimi oddio facciamo una foto facciamo un selfie subito aspetta timmy mi devo fare una foto eccolo lì vai bene bene ragazzi foto fatta abbiamo le prove le facciamo vedere a franklin le mettiamo dappertutto ragazzi oddio aspetta timmy mettiti così vediamo un attimo se possiamo farci una foto tutti e due si bene guarda ok perfetto ragazzi foto fatta anche con timmy rientriamo dentro qua incredibile siamo pure troppo vicini ragazzi qua mi sa che dobbiamo allontanarci perché sennò qua veniamo arrestati va bene guardate quanti militari ci sono oddio bellissimo ragazzi bellissimo comunque ragazzi volevo anche avvisarvi che quando sarà uscito questo video qua io non sono più a casa mia ragazzi ma sono a casa di Giulia e mi raccomando non perdetevi le live che faremo il pomeriggio da lei perché lì ovviamente ragazzi le faremo con la webcam ok a casa sua e quindi passate se vi fa piacere no che ne so venite a fare qualche domanda e lì abbiamo al 100% sempre la webcam e e ovviamente poi faremo live dappertutto in giro da me al parco che ne so ragazzi dappertutto quindi mi raccomando venite ci divertiamo che poi lì 100% webcam non è la solita live dove si parla solo va bene e quindi si io resterò comunque fino a fine mese ragazzi e poi me ne devo tornare cioè si me ne torno a fine mese e via ok però mi raccomando passateci io adesso mi sto facendo tutti i video me li sto preparando per bene e dai direi che con questo è tutto ragazzi abbiamo fatto un bel viaggetto con Ronaldo e Timmy il fantasma eccolo lì e bello ovviamente io avevo già fatto un video se vi ricordate con Michael da giovane solo che comunque ragazzi quel video andò male aveva fatto tipo 4000 views non mi sembrava il caso comunque non rifare una cosa così per chi non l'aveva visto cioè per chi non l'ha mai visto questo fantasma ed eh ragazzi con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video ciao